Trasformazioni. Lampo. Cosplay in pochi minuti. Il mondo del cosplay è un universo vibrante, dove la creatività prende vita. Indossare un incredibile costume non solo cattura l'attenzione, ma trasforma chiunque in un personaggio magico. Il cosplay ha origini in Giappone, affondando le sue radici nei costumi indossati dai fan durante i raduni di fantascienza. Da allora è esploso in un fenomeno globale, unendo culture diverse. Scegliere il personaggio giusto per il tuo cosplay è essenziale. Considera le tue passioni personali e le tue abilità, garantendo che il personaggio risuoni con te e con il pubblico. I materiali essenziali per iniziare nel cosplay includono tessuti di qualità, colla a caldo e strumenti di cucito. Con questi puoi creare autentici capolavori che fanno risplendere ogni dettaglio del costume. Un trucco cosplay veloce richiede pochi passaggi chiave. Utilizza prodotti di lunga durata e colori intensi per trasformarti da zero a eroe, assicurando un look impeccabile per ogni evento. Creare costumi di cosplay con un budget limitato richiede creatività e pianificazione. Sfrutta materiali riciclati, cerca offerte online e utilizza strumenti di seconda mano per realizzare dettagli autentici senza spendere una fortuna. Trasformare abiti normali in costumi completi è un'arte. Modifica capi esistenti, aggiungi dettagli artigianali e usa accessori strategicamente per portare il tuo look a un nuovo livello di autenticità. Accessori fai da te completano il tuo look cosplay, aggiungendo unicità. Usa materiali semplici come schiuma e cartone. Dipingili con cura e integra dettagli per rendere ogni pezzo speciale e personalizzato. Fotografare il tuo cosplay al meglio richiede luce naturale e angolazioni creative. Sperimenta compose che esaltano i dettagli del costume e scegli sfondi che completano l'estetica del tuo personaggio. Intervistare un cosplayer esperto rivela segreti e trucchi del mestiere. Scopri come migliorare le tue tecniche, ottenere consigli su materiali e conoscere storie personali che ispirano la passione per il cosplay. Per migliorare la tua presenza scenica nel cosplay, assumi il comportamento del personaggio, studiandone le movenze e il linguaggio. È importante essere autentici e coinvolgere il pubblico con carisma e passione. Gli errori comuni nel cosplay includono costumi poco curati o dettagli mancanti. Evitali pianificando attentamente ogni fase, dalla scelta dei materiali alla realizzazione degli accessori. La precisione è fondamentale per un risultato convincente. Per le coppie o amici, il cosplay offre infinite possibilità di divertimento. Scegliete personaggi che abbiano una connessione speciale, creando un forte impatto visivo che celebri l'amicizia o l'amore attraverso costumi coordinati. Realizzare una parrucca perfetta richiede pazienza e attenzione. Seleziona una parrucca di base di buona qualità e modellala con prodotti specifici per ottenere la forma desiderata, garantendo un look autentico e accattivante. Gli eventi di cosplay nel mondo sono straordinari e imperdibili. Offrono l'opportunità di incontrare altri appassionati, scambiare idee e partecipare a competizioni, celebrando la creatività e l'inclusione globale. La creatività nel cosplay permette di dar vita a personaggi originali combinando elementi diversi. Lasciati ispirare da film, libri e musica per creare un eroe unico che racconti la tua storia. Realizzare un make-up in stile anime richiede precisione e passione. Sperimenta con colori vivaci e linee definite per trasformare il tuo volto e catturare l'essenza del tuo personaggio preferito con pochi tocchi. Trasportare e conservare i costumi senza rovinarli è fondamentale. Utilizza sacche protettive e scatole rigide per mantenere intatte le tue creazioni, garantendo che ogni dettaglio rimanga perfetto per il prossimo evento. Il lato sociale del cosplay è una forza trainante. Partecipare a eventi e forum online ti permette di stringere amicizie, condividere esperienze e crescere insieme, creando una comunità appassionata e solidale. Mostra il tuo cosplay con orgoglio e invita gli spettatori a condividere i loro capolavori. La condivisione online rafforza i legami nella comunità, ispirando nuove idee e collaborazioni tra appassionati.